Dopo il referendum per l'autonomia regionale del Veneto e della Lombardia, i salviniani di Puglia si starebbero organizzando per far svolgere anche nella nostra regione un referendum per chiedere al governo maggiore autonomia. Ieri era stato lo stesso segretario leghista Matteo Salvini ad annunciare che si sarebbe messo al lavoro per soddisfare la richiesta dei pugliesi affinché possano fare la stessa scelta dei Veneti e dei Lombardi. Ecco allora che i salviniani pugliesi sono pronti per chiedere maggiori competenze e risorse per i propri territori ma senza alcuna scissione. Una richiesta hanno ribadito per avere più poteri per superare le inefficienze dello Stato. Secondo alcuni però l'autonomia della Puglia non gioverebbe molto ai pugliesi perché sul piano tributario ogni pugliese versa 861 euro in meno di quanto costa in servizi. In Puglia entrano dal punto di vista tributario 37,7 milioni di euro con 41,2 milioni di spese per un residuo fiscale di 3-4 milioni di euro. Intanto però il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano si è detto pronto a chiedere una maggiore autonomia per la nostra regione ma non con un referendum ma prendendo spunto dal modello emiliano ovvero puntare tutto sulla trattativa con Roma per ottenere maggiori risorse per sanità, lavoro, ambiente, ricerca e sviluppo.